Il trasferimento degli uffici provinciali dall'immobile di piazza Plebiscito a Barletta, l'ex sede della LUM a Trani, finisce al centro di un duello a distanza tra l'ex sindaco Mino Cannito e il presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto. Per l'ex primario del pronto soccorso, ricandidatosi alla guida del comune di Barletta con il centrodestra, si tratta di un vero e proprio blizzo operato dal PD e dal centrosinistra provinciale ai danni della città della disfida. L'affitto di oltre 30 mila euro al mese pagato per l'ex sede della LUM risulterebbe per Cannito uno spreco di denaro pubblico sul quale la Corte dei Conti farebbe bene ad accendere i riflettori. La provincia dovrebbe inoltre spiegare, prosegue l'ex sindaco, per quale motivo ha ristrutturato Palazzo San Domenico in corso Cavour a Barletta spendendo 450 mila euro per poi trasferire gli uffici a Trani. Diversa la posizione di Lodispoto, che giudica l'operazione di spostamento degli uffici da Barletta a Trani tutt'altro che anti-economica. Nell'ex sede della LUM, ricorda il presidente della provincia, sono stati trasferiti anche 400 studenti dell'Iceo de Sanctis prima ospitati in un edificio in Via Tasselgardo, con il risultato che ora non si pagheranno più né il fitto dell'immobile di piazza Plebiscito a Barletta, di circa 12 mila euro, né la locazione della sede scolastica di Via Tasselgardo a Trani, pari a 10 mila euro. Ma soprattutto si fornisce sia agli studenti che ai dipendenti provinciali una struttura moderna e in eccellenti condizioni, i cui spazi ancora inutilizzati potranno essere messi in futuro a disposizione di altre scuole. Nel Palazzo San Domenico di Barletta conclude Lodispoto, per il quale sono stati spesi 280 mila euro di ristrutturazione e non 450 mila, avrà invece sì dell'ufficio scolastico provinciale. Quando abbiamo chiesto al commissario Alecci la disponibilità di altri immobili, il commissario Alecci non ha dato disponibilità di altri immobili e mi sono offerto io come presidente da provincia nel verificare il percorso del San Domenico. C'è stata una contestualità di circostanze per cui, pur che abbiamo investito 280 mila euro, daremo questo immobile incomodato gratuito, grazie anche alla collaborazione eccellente del commissario Alecci, al Ministero. Stiamo concretizzando l'atto e per normativa di legge alla provincia faranno carico tutte le spese di arredamento e di mantenimento della sede dell'ufficio provinciale scolastico. Abbiamo fatto un torto a Barletta? Non credo proprio, anzi, l'abbiamo valorizzata sotto questo punto di vista e l'abbiamo rivalorizzato ancora quanto abbiamo previsto la istituzione della sede dell'archivio di Stato. Evidentemente c'è una grandissima disinformazione, io direi anche in malafede, speculando su una campagna elettorale che a me personalmente non interessa, ma la cosa più importante, un amministratore, le bugie, le deve finire di dire qualsiasi amministratore, perché quello che serve è la realizzazione delle opere e non le chiacchiere, perché le bugie spaccano solamente, soprattutto se sono finalizzate sul piano personale, a non rendere quell'efficienza, quella trasparenza e soprattutto quel contributo fattivo di cui una istituzione, una comunità, un territorio ha bisogno di realizzare. La sede legale della provincia ribadisce ancora una volta lo disputo, tornerà ad Andria una volta terminati i lavori di ristrutturazione degli uffici di Piazza Pio X. I lavori credo che entro giugno verranno ultimate. La sede giuridica, ho fatto anche un comunicato stampa che mi è stato chiesto, ma l'ho detto sempre, la sede rimane Andria. Se ci sarà insufficienza per ricevere tutti gli uffici in maniera logistica adeguata, compreso i concorsi che ci accingiamo a fare, perché a fine mese riapriremo i termini per via della brunetta e poi ci accingiamo, entro l'anno li facciamo i concorsi, se sarà insufficiente anche a ricevere tutto il personale, parte o gli uffici tecnici, poi determineremo quello che possiamo determinare, altri uffici resteranno nell'alumbo.